Grazie a Professor Ricolfi che ci ha guidato con mano sicura in questo labirinto della biforcazione e anche grazie per queste ultime considerazioni sul legame di questo specifico problema con aspetti più generali di filosofia del sistema brevettuale. Andiamo ora all'ultima relazione di questo pomeriggio che è affidata, chiudendo un po' il cerchio, alla dottoressa Micaela Modiano e che riguarda il ruolo del Pate Trattoni di fronte al Tribunale Unificato. La parola alla dottoressa Modiano. Grazie. Buonasera a tutti. Io ho un compito un po' ingrato e cioè voi siete sfiniti, io anche, ma devo tenervi sveglia fino alla fine della mia presentazione e anche oltre perché ci sono anche gli interventi programmati. Quindi questo è il mio scopo della mia relazione. Inoltre, volendo sempre essere diversa dagli altri, io non ho nessuna intenzione di ringraziare nessuno, neanche la professoressa Onorati. Quello che invece voglio fare è farle complimenti perché ritengo, presenti esclusi, sottoscritti esclusa, che questo sia veramente un convegno estremamente equilibrato rispetto agli altri che ci sono stati in Italia. Un convegno, a mio avviso, e questo glielo ho già detto anche se è parata a sede, lo penso veramente, a livello di quelli che abbiamo già visto organizzati a livello internazionale e io trovo che questo sia il livello che dobbiamo avere anche in Italia. Detto questo, cercherò anche io quindi di essere equilibrata, però non sono sicura di riuscirci. Spero che mi perdonerete perché non sono sicura, perché come vedete dal titolo della mia presentazione, io devo parlare di me, perché devo parlarvi del ruolo dei patentatorni all'interno del Tribunale Unificato. Devo parlare di me e quindi, dovendovi parlare di me, spero, farò uno sforzo per essere equilibrata, non sono sicurissima di riuscirci. Peraltro, penso di avere un'audience estremamente avversa in questo momento, perché ovviamente vi parlo di una cosa che io penso che l'audience sia costituita in prevalenza da avvocati o aspiranti tali, e che non vogliono i patentatorni come concorrenti. Io fossi un avvocato, non li vorrei come concorrenti, non vorrei, nessuno di noi vuole dei concorrenti, ovviamente detto proprio fuori dai denti. Detto questo, vorrei una conferma della mia impressione. Quindi, come si dice in inglese, show of hands, chi è avvocato o aspirante tale? Non ho torto, ok. Chi è consulente? Chi è patentatorni qui dentro? Alzate bene la mano che vi si veda. Facciamo paura? Siamo quattro gatti? Non abbiate paura di noi, perché non possiamo farvi niente di male. Detto questo, adesso passiamo alla cosa seria, ma questa non era poco seria. La premessa, ovviamente, come avete già sentito 27 volte, quindi ve la faccio breve, però darò un taglio livellamente diverso, della mia presentazione è il fatto che in questo nuovo sistema unitario, brevetto unificato del Tribunale Unificato, i giudici tecnici sostanzialmente imperversano. Nel senso che avete già sentito che spesso ci saranno, come vedete dalla mia slide, sono obbligatori, la presenza loro è obbligatoria nella divisione centrale, che secondo le mie modestissime statistiche avrà almeno il 50% dei casi. Sono possibili, quindi opzionali, ma possibili, alle divisioni locali e regionali in caso di azioni di contraffazione, sono obbligatori, se c'è una riconvenzionale e non c'è la biforcazione, sono obbligatori in tutti i casi presso il Tribunale di Appello, l'unica piccolissima eccezione è per quegli appelli che sono procedurati, totalmente, c'è un consulente che scappa perché ha paura che lo linciate, visto, ciao. Sono obbligatori, tranne in quei casi, che saranno rarissimi secondo me, che sono puramente procedurali e cioè sostanzialmente quando l'ufficio brevetti europeo non ci imbrocca totalmente per quanto riguarda la registrazione del carattere unitario dei brevetti. Quindi vedete che ci saranno spessissimo questi giudici tecnici e addirittura nella maggior parte dei casi non sarà neanche possibile scegliere se averlo o non averlo, ci sarà. Fatta questa premessa, l'accordo sul Tribunale Unitario dice quindi all'articolo 48 che le parti di fronte a questo Tribunale possono essere rappresentate da due figure professionali, una sono i lawyers, quindi la maggior parte di voi, e l'altra sono questi fantomatici European Patent Attorneys di cui parleremo, che hanno, dice qua, who have appropriate qualifications such as European Patent Litigation Certificate. E poi la terza cosa che dice, sempre questo articolo, è che i representative of the parties, quindi o gli avvocati o quelli che abbiamo appena visto, questi famosi EPA, per farla breve, con il titolo in più, possono anche essere assistiti a loro volta da dei Patent Attorneys che potranno parlare, essendo umani, avranno diritto di parola incredibilmente, nelle udienze del Tribunale. Allora, visto che io devo parlarvi dei Patent Attorneys, sorvolo sui lawyers, che non penso di avere bisogno di dire niente, e affrontarò nella mia presentazione quindi questi due fronti che vengono dati, queste due possibilità che vengono date ai Patent Attorneys che sono la full representation, cioè da soli, di fronte al giudice, oppure l'assistenza dei cosiddetti representative, quindi i lawyers o gli EPA con la qualifica in più, da parte dei Patent Attorneys, visto che questa seconda ipotesi, quella che somiglia di più alle cause italiane, inizia da quella che è più facile. La definizione di Patent Attorneys, visto che per coloro di voi che hanno un pochino di esperienza internazionale, il Patent Attorneys è concettualmente in linea di principio lo stesso figuro in tutti i paesi, però poi ogni paese ha le proprie regole su come si fa a diventare Patent Attorneys, come del resto anche per gli avvocati, non è che è proprio tutto uguale in tutti i paesi europei. Quindi è stata data una definizione che non vi leggo perché è lunga, ma la potete leggere, ma il punto interessante di questo articolo, o meglio di questa regola perché la definizione si trova, scusate, nel Rusell Procedure, è che in realtà come sono attualmente definiti, poi siamo alla quindicesima, arriveremo alla venticinquesima, poi saranno definiti in altro modo, però ci occupiamo della quindicesima, come sono attualmente definiti questi Patent Attorneys che possono assistere l'avvocato o l'altra figura professionale, possono essere, e la prima ipotesi direi forse scontata, Patent Attorneys dei paesi che aderiranno o che ratificheranno l'accordo sul Tribunale Unitario, possono però anche essere dei Patent Attorneys di altri paesi dell'Unione Europea, ma che non hanno aderito, quindi io che mi trovo in futuro con i famosi 13 paesi che hanno aderito e tra questi non c'è per dire, mi veniva da dire la Spagna, pessimo esempio, non c'è il Belgio che non ha aderito, però io posso andare da un Patent Attorneys Belga, quindi se io storicamente cliente mi sono sempre trovato bene con il mio Patent Attorneys Belga, gli posso far fare la causa, ovviamente nel senso che lui assiste l'avvocato o l'EPA, ma gliela posso far fare, non è che devo limitarmi ai paesi che hanno aderito, addirittura posso pure andare da un americano, un giapponese, un turco, uno svizzero, se voglio, perché non c'è nessun tipo di limitazione geografica, chiunque faccia questo lavoro di give advice under the law of the state where he practices, che non è contracting state, non è che mi sono dimenticato una parola, è state where he practices in relation to patent procurement, eccetera, eccetera, quello può essere il mio Patent Attorneys, quindi io quello che mi aspetto, questo giusto per la nota di cronaca è che in tutte quelle cause in cui ci saranno da una parte o da entrambe le parti degli americani, gli americani che sono notoriamente molto protezionisti, hanno i loro bonomotivi, ma tali sono, si porteranno il Patent Attorneys americano invece di prenderlo, ecco infatti, quindi chi c'è c'è, comunque andrà così, già se li portano, questo ve lo dico io per esperienza, già se li portano o ce li mandano più che altro, quando facciamo le udienze all'ufficio brevetto europeo, nonostante non abbiano il diritto di parlare all'ufficio brevetto europeo, perché solo gli EPA hanno il diritto di parlare all'ufficio brevetto europeo e vogliono parlare, qua pure gli viene dato il diritto ufficialmente, quindi sarà affascinante quello che succederà. In più, gli altri che possono essere appunto questi assistenti al representative della parte, sono gli EPA, di nuovo anche in questo caso EPA, quindi European Patent Attorneys, dei paesi che aderiranno, anche dei paesi UE che non aderiranno e visto che la qualifica di EPA, European Patent Attorneys, può essere conferita anche a persone di paesi che non sono parte dell'Unione Europea, ma sono parte della Convenzione del Subbrevetto Europeo che ce ne sono tanti di paesi così, io vi ho fatto qua due esempi più, diciamo, eclatanti la Svizzera e la Turchia, quindi volendo io posso andare, io che sono turco, mi piglio un avvocato o un European Patent Attorneys con la qualifica in più di un paese contraente, poi vedremo che anche lì c'è una certa ampiezza, ma posso spedire il mio Patent Attorneys turco a fare l'assistenza. Incidentalmente voi mi direte che male c'è, tanto il Patent Attorneys è un tecnico, la tecnica, la scienza è uguale in tutti i paesi, qual è il problema? E no, perché lì mi trovate in disaccordo, perché secondo me il Patent Attorneys è una figura ibrida, tecnico-legale e quindi voi avrete una persona che con il suo bagaglio legale, che c'entra un fischio con la UPC, viene e vi dice che cosa fare, quindi capite che la cosa è bella perché è aperta e crea tanta concorrenza, però insomma c'è di cui pensare. L'ultima cosa, mi pare che vi dirò su questo coinvolgimento appunto dei Patent Attorneys come assistenti, è la cosiddetta Right of Audience, sempre prevista dalle Rules of Procedure, che dice che i Patent Attorneys, quindi questi che assistono, potranno parlare alle udienze presso la UPC, ma solo a due condizioni. La prima è ovviamente che possono parlare se il giudice concorda, che possano parlare, se ritiene effettivamente che in quel caso in quell'udienza specifica possono parlare e ovviamente sotto la responsabilità del representative, quindi se il representative e il Patent Attorneys hanno per esempio su un punto una visione diversa, il representative può decidere di non far parlare al Patent Attorneys così non mette rischio, per esempio la posizione del suo cliente, per cui ci deve essere questa duplice, come dire, il superamento di questa duplice barriera di modo che questo famoso Patent Attorneys possa parlare, però se viene superata questa duplice barriera quello può parlare. Un breve confronto, visto che vi dicevo questo è lo scenario che somiglia di più alle cause italiane, è che cosa può fare il Patent Attorneys, quindi il consulente di parte, invece nelle cause italiane, allora il codice procedura civile dice sostanzialmente che il consulente di parte esiste ufficialmente, comes into being, emerge, nasce all'interno della causa soltanto che dopo che viene nominato un CTU, abbiamo visto che, ha accennato giustamente la dottoressa Tavassi prima, anche nelle cause alla UPC ci può essere il CTU, però ci può essere e peraltro io mi chiedo quanto spesso ci sarà, visto che ci sarà il giudice tecnico in molte delle cause e oltretutto in realtà l'eruso procedure delle UPC non dicono niente sul fatto che il Patent Attorneys che assiste può assistere soltanto quando viene nominato un CTU, a partire da quando, quindi non è esattamente la stessa cosa. Inoltre il consulente di parte, sempre in base ai codici di procedura civile, può parlare in maniera analoga a quella che abbiamo visto prima, solo con l'autorizzazione della Corte e solo all'interno della responsabilità dell'avvocato, ma anche solo in presenza dell'avvocato, quindi non può andare a un'udienza da solo senza l'avvocato, mentre l'eruso procedure delle UPC non dicono che fisicamente deve essere presente l'avvocato, poi magari verranno interpretati così, ma dirlo non lo dicono. Inoltre i consulenti di parte possono parlare soltanto a quelle udienze in cui viene anche convocato il CTU, ribadisco concetto che invece questo tipo di limitazione di, come dire, andare al braccetto consulente di parte CTU, invece nell'eruso procedure e anche nell'agreement della UPC non c'è. Quindi mi viene da pensare, con un sistema ovviamente che per un momento non esiste, quindi chi lo sa, però questa è la mia sensazione, che probabilmente alla UPC il cosiddetto right to be heard, o il right of audience del Patent Attorneys sarà un pochino più ampio, almeno diciamo in senso temporale, cioè dall'inizio della causa fino alla fine non solo nella fase in cui partecipa il CTU e forse anche, chi lo sa, ha delle udienze che magari si potrebbero ottenere senza la presenza dell'avvocato se per esempio si parla solo di cose più strettamente tecniche. Vedremo, vedremo. L'altra cosa che invece secondo me è ancora più interessante è questa ipotesi di full representation da parte degli EPA e cioè, come vi dicevo prima, l'agreement prevede che gli EPA che abbiano una appropriate qualification such as the European Patent Litigation certificate possano rappresentare, un po' lunga sta cosa per cui non è che ve la ripeto tutte le volte, però questo è il concetto, sono EPA con una qualifica in più, possono rappresentare i loro clienti senza l'avvocato. Dice l'accordo che i requisiti per questa qualifica in più, che come vedete per il momento non è molto ben definita, verranno decisi in futuro dall'administrativo committee, quindi non sappiamo come si presenteranno queste persone, non sappiamo neanche se già esistono, magari qualcuno degli EPA qua nella stanza o fuori dalla stanza già ce l'ha, questa qualifica in più, ma non c'è dato saperlo. Quindi i due requisiti che deve avere questo figuro per poter rappresentare i propri clienti senza l'avvocato sono che deve essere EPA e per la cronaca, per coloro di voi che non lo sapessero, per diventare EPA bisogna passare un esame di abilitazione che poi vi racconto com'è e poi bisogna avere questa benedetta qualifica in più misteriosa. Allora iniziamo con l'esame per diventare EPA che secondo me è interessante vedere com'è. È interessante vedere com'è perché io, visto che la nostra è una professione che in Italia non conosce nessuno, io non sapete quanti colloqui di lavoro ho fatto io nel senso che io assumevo le persone e le persone poi mi confessavano che avevano risposto all'inserzione perché non avevano capito cosa facevamo e venivano per curiosità. Perché nessuno, mentre andate in Germania tutti vogliono diventare patentatori perché tutti sanno cos'è, in Italia nessuno sa cosa sia sta roba. Quindi ve lo dico, l'European patentatori appunto è una persona che deve avere obbligatoriamente una laurea tecnica a livello universitario, però non finisce lì perché come vi dicevo siamo dei figuri tecnico-legali e non soltanto dei tecnici. Infatti prima ancora di poter accedere all'esame che noi dobbiamo fare per diventare EPA bisogna fare un tirocinio di tre anni sotto la supervisione di un altro EPA e giusto per dirvi cos'è il tirocinio, il tirocinio sempre a differenza di quello che alcuni pensano con cui ho parlato che mi dicevano sì un tirocinio nel senso che vai, fai in laboratorio, fai degli esperimenti, fai dei progetti, cioè pensano che noi stiamo lì a fare specializzazione tecnica. Invece il tirocinio è un tirocinio di tipo legale, tant'è che come vedete qua il periodo di tre anni viene ridotto ma solo se si fanno certi corsi che basta leggere il titolo evidentemente sono dei corsi di diritto, sono specializzati ovviamente in diritto industriale o nei progetti ma diritto sono, non sono un PhD in ingegneria. Quindi sono tre anni di tirocinio legale. Il syllabus diciamo, quello che bisogna poi studiare per superare questo esame è quello che vedete qua elencato che come vedete sono tutta legge, quindi è un esame legale. Quello che viene fatto in questo esame che si fanno delle simulazioni, sono quattro simulazioni, redazione di un testo brevettuale che ha una parte tecnica ma deve soddisfare ovviamente tutti i crismi legali, quindi è un testo legale in realtà. La preparazione di una memoria di risposta a una comunicazione dell'ufficio brevetti europeo, la preparazione di un'opposizione che al di là del fatto che una procedura amministrativa nel suo contenuto è come una causa di nullità e la preparazione di un parallele legale, quindi come vedete è un esame legale. Oltretutto, visto che l'EPPO non si fa mancare niente, noi neanche, l'esame è in inglese, tedesco o francese, nel senso che tutta la documentazione viene data solo in queste tre lingue e uno, a parte rarissime eccezioni, deve scrivere il compito in inglese, francese o tedesco, il che significa che ovviamente per noi italiani vuol dire fare un esame legale in lingua straniera e se uno non si sa esprimere abbastanza bene in una di queste tre lingue vi garantisco che l'esame non lo passa. Le ulteriori qualifiche cosa sono? Sono questo grande mistero, non sappiamo neanche se esiste in questo momento perché attualmente non esiste un corso che ufficialmente conferisca, o non esiste, forse esiste ma non è ancora stato detto dal preparatore committee che così è, se esiste un corso che conferisca questo famoso certificate. Appunto la cosa verrà decisa dall'administrative committee e il preparatore committee ha detto che ci sta pensando e ci sta lavorando. Per conto dell'associazione degli EPA, che si chiama EPI, abbiamo quindi fatto delle proposte, visto che essendo ovviamente circolo primariamente interessato, il preparatore committee ci ha dato la possibilità di fare delle proposte e le proposte che sono state fatte su come ottenere queste appropriate qualifications in più, questa qualifica in più, sono, e questi sono degli esempi che sono stati fatti, per esempio quei patent attorneys che nel loro paese possono già fare le cause da soli e qui io mi riferisco per esempio ai patent attorneys tedeschi che possono fare le cause di nullità interamente da soli. Coloro che hanno esperienza in cause, nel senso che assistono o un giudice o un avvocato e qui noi pensiamo per esempio ai consulenti italiani nella misura in cui possono dimostrare di avere fatto però delle consulenze tecniche o CTU o CTP e non soltanto la teoria. Esperienza appunto in opposizioni che come vi dicevo all'idea della natura amministrativa della cosa a livello contenutistico sono come delle cause di nullità e i relativi appelli, l'ultima è un po' ridondante, l'ultima proposta. Gli altri esempi di appunto proposte che sono state fatte sono riguardanti tre corsi che esistono già, che sono dei master, quindi come si dice in inglese post graduate, post laurea, che esistono già e anche qua se guardate il titolo di questi corsi vedete subito che si tratta di corsi puramente legali, mirati al settore dei brevetti ma corsi puramente legali. che appunto esistono già e quindi la proposta sarebbe quella di riconoscere in questi corsi dei modi per avere questo certificato famoso. E l'ultima cosa è stata fatta una proposta appunto per invece se si ritiene fare proprio un corso nuovo, completamente nuovo, che ogni università, ogni ente che lo ritiene possa organizzare e le proposte sono state quelle di fare un corso che comprenda due moduli, uno cosiddetto core e uno cosiddetto litigation. Il core sarebbe un modulo nel quale si apprendono delle nozioni legali di base che alcuni patent attorneys di alcuni paesi, tra cui gli italiani, hanno già nel momento in cui superano l'esame di stato locale perché per esempio per diventare consulente di proprietà industriale oltre a studiare il codice di proprietà industriale bisogna avere anche nozioni di diritto privato, di diritto processuale eccetera, dico non voglio dire che siamo avvocati però le nozioni ce le abbiamo altrimenti l'esame non lo superiamo e per farvi un esempio io quando ho fatto l'esame mi hanno chiesto cos'è una descrizione giudiziaria mi hanno detto di spiegarla, non mi hanno chiesto niente di chimica, io sono lavorata in chimica e non mi hanno neanche chiesto cos'è un brevetto, mi hanno chiesto cos'è una descrizione giudiziaria. Il secondo modulo sarebbe il cosiddetto litigation module che invece sarebbe mirato ovviamente a tutto quello che riguarda l'UPC le reuse procedure eccetera comprenderebbe anche cosiddetti mock trials e ovviamente finirebbe con un esame quindi non è un grazie per aver partecipato a ethical certificato ma sarebbe una cosa ovviamente per la quale uno dovrebbe studiare arrivare preparato e dimostrare di avere fatto su e tutte le nozioni necessarie. Quindi esisterà questa sorta di chimera un bel giorno che sarà una figura professionale completamente nuova che e questo è evidentemente il motivo per cui il legislatore europeo ha ritenuto di includere questa seconda ipotesi di rappresentanza o rappresentazione delle parti in questo nuovo sistema e cioè ovviamente in questa fase della storia in Europa c'è un grande trend pro concorrenza, l'apertura alla concorrenza e questo ovviamente è un modo per avere più professionisti che possano rappresentare i clienti e quindi aumentare la concorrenza. Come dicevo e questo vi spiega perché è della slide iniziale, ovviamente questa figura professionale rispecchia il fatto che in quasi tutte le cause di fronte a questo nuovo tribunale ci sarà comunque un giudice tecnico e a mio avviso è comunque una buona notizia al di là del fatto che come avete visto siamo in quattro gatti quindi non c'è niente di cui avere paura e peraltro io non penso assolutamente che tutti quelli che sono EPA vorranno anche avere questa qualifica in più quindi saranno veramente pochi ma ritengo comunque sia che questo nuovo gruppo professionale costituito dagli avvocati da una parte e questi EPA titolati, extratitolati dall'altra potranno, saranno molto di beneficio per tutto il sistema perché saranno delle figure professionali con un altissimo livello di specializzazione e di qualifica e quindi ovviamente saranno di beneficio sia per le parti che anche per il tribunale che ovviamente penso che anche i giudici vogliano avere degli interlocutori all'altezza della situazione. E quindi, e questa è la mia idea in generale, secondo me in futuro ci sarà un dream team ancora migliore di quello che noi abbiamo visto fino adesso in Italia e che io trovo essere la situazione migliore perché appunto secondo me in Italia adesso questo sistema con l'avvocato e il consulente è un sistema che a mio avviso funziona molto bene rispetto a quello che per esempio io ho visto in altri paesi dove il consulente invece ha un ruolo molto minore rispetto a quello che ha in Italia gli avvocati fanno le cause da soli anche in materia brevettuale, fanno veramente dei mezzi disastri poi magari sono anche avvocati non specializzati in brevetti perché magari parliamo di paesi dove peraltro le cause di brevetti sono veramente poche per cui è veramente molto faticoso e invece secondo me in Italia c'è un altissimo livello di specializzazione spero che la dottoressa Tavassi sia d'accordo proprio grazie a questa combinazione molto proficua che non è assolutamente così automatica ma quando c'è secondo me funziona molto bene e quindi io penso e da questo punto di vista che sempre per voi che siete quasi tutti avvocati in realtà questa nuova figura professionale non debba fare paura ma a mio avviso deve essere vista come un'opportunità per fornire al cliente un ruolo come dire aggiuntivo a mio avviso paritario poi questo sono io che ho delle belleità non lo so però ovviamente se noi quando collaboriamo con un avvocato siamo già qualificati ora ma più qualificati ancora in futuro non può che essere dei beneficio non solo per il cliente ma anche per l'avvocato che può rasserenarsi nel dire io mi propongo di fronte al mio cliente e gli propongo una collaborazione con una persona che già adesso appunto ci sono persone molto qualificate appunto di patent attorneys che sia ancora più qualificato e che col fatto che questa qualifica aggiuntiva sarà di tipo legale permetterà una come dire comprensione reciproca ancora maggiore rispetto a quella che magari può esserci adesso dove in base a quello che mi dicono alcuni alle volte patent attorney che magari alcuni hanno una mentalità molto tecnica e prima di riuscire finalmente a capirsi bisogna un pochino abituarsi a lavorare insieme invece io penso che con questa qualifica in più questa cosa sarà ancora più facile e quindi penso che in futuro ci siano possibilità positive da questo punto di vista e ho una visione molto rosea della cosa a questo punto o avete delle domande oppure penso che abbiate bisogno di un cocktail perché si è fatta un'ora grazie 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 grazie